Individuare uno strumento giuridico alla fine della qualificazione del danno indiretto da maltempo, promuovere presso Enelterna l'inserimento nella propria programmazione degli interventi necessari a garantire investimenti puntuali di manutenzione e potenziamento della rete, anche attraverso una rete alternativa di fornitura di energia elettrica in caso di emergenze e necessità, garantendo la verifica, da parte della Regione Abruzzo, degli interventi realizzati. Promuovere l'istituzione nell'ambito della struttura del componente Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, di un servizio di prevenzione multirischio, rischi geologici, idraulici e sismici. Promuovere un piano di interventi sulla sicurezza scolastica, garantendo investimenti per superare la vulnerabilità sismica, anche attraverso la realizzazione di nuove scuole e di poli scolastici. Richiedere la disponibilità di risorse aggiuntive relativi al Fondo di Solidarietà Nazionale, al fine di garantire tutti i danni del comparto agricolo. Aprire una vertenza a sostegno del sistema produttivo e per la riattivazione dell'economia nelle aree colpite. Sono questi gli otto punti del documento sull'emergenza abruzzese, approvato ieri sera a Pescara durante la seduta del Consiglio regionale sul maltempo. Un documento che, come detto, impegna il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, a promuovere presso il Governo tutte le azioni opportune e necessarie ad ottenere un risarcimento pieno e omnicomprensivo degli effetti dell'emergenza del mese di gennaio. Non solo analisi, ma anche proposta. Da un lato ricostruiamo tutto quello che è accaduto, anche in termini numerici, affinché diventi massa critica del dossier nei confronti del Governo. Dall'altro apriamo una vertenza a Abruzzo con una serie di proposte, così il Consigliere regionale Camillo D'Alessandro, che ha invitato tutte le forze politiche all'unità di intenti. Il documento è stato approvato a maggioranza con l'assenzione del Movimento 5 Stelle, naufragato invece il tentativo dei grillini di istituire una commissione d'inchiesta.